Musica Ben trovati a Sport News Una giovane promessa statunitense salta e suda con la Cucine Lube Civitanova per tenere alto il livello delle sedute tecniche durante la preparazione atletica. Lo schiacciatore Justin Todd, classe 2005, alto 200 cm e reduce dall'annata in banda con la maglia della Y University, è arrivato in Italia per affrontare uno stagio estivo di 14 giorni alla corte di Giampaolo Medei. Il ragazzone americano concluderà la sua esperienza civitanovese il 31 agosto, quando raggiungerà Bologna e volerà alla volta degli States. Il centrale David Tenorio ed il palleggiatore Mattia Boninfante sono invece i due volti nuovi della Cucine Lube Civitanova, presentati a tifosi e giornalisti all'interno dell'Eurosuole Forum. Ma scopriamo di più nel servizio curato da Mario Sposetti. Come sono questi primi giorni di aggregazione con la Lube? Grazie innanzitutto, questi primi giorni stanno andando bene, abbiamo iniziato con dei bei ritmi per rimetterci in moto per essere pronti all'inizio della stagione. È stata un'estate importante per te, soprattutto la telefonata di Cormio che praticamente ha voluto a tutti i costi che tu venissi a Civitanova. Sì, è stata una bella telefonata, appena mi è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte, l'ho subito accettato perché era una cosa a cui non potevo dire di no e quindi è stato molto bello riceverla. Quali sono le aspettative tue per questa stagione Mattia? Siamo una squadra giovane quindi è importante migliorarci ogni giorno dando sempre il massimo, possiamo migliorare tanto durante l'anno quindi potrebbe essere una bella stagione. Guardando all'attuale, in attesa appunto di vedere la Lube che scende in campo, la settimana scorsa è stata l'occasione per vedere la palla a volo alle Olimpiadi in televisione. Peccato per la nazionale maschile che si è fermata al quarto posto. Sì, peccato perché avevano le possibilità per arrivare alla medaglia però si sa, penso si sia visto un livello altissimo all'Olimpiade quindi può capitare, può capitare di perdere delle partite perché tutte le squadre che sono arrivate a quei livelli sono veramente di, potevano vincere tutte. Quindi ha vinto chi ha giocato meglio però nulla toglie alla nazionale che è comunque una nazionale molto giovane e fortissima. Mattia, ritorniamo a parlare un attimino invece dell'avventura all'Ube. Dicevamo che da alcuni giorni state lavorando per preparare una stagione dove praticamente per certi versi bisognerà confermare quanto di buono l'Ube ha fatto in passato. Sì, questa è una società molto importante, è una società che mira sempre ad essere ai massimi livelli quindi è giusto che noi durante le partite scendiamo in campo per confermare queste cose, per dare il massimo per la maglia e per tutto l'ambiente. Il diciassettesimo memoria alle Maurizio Maceratesi tenutosi allo stadio Tubaldi di Recanati ha unito sport e solidarietà con un triangolare che ha visto sfidarsi i padroni di casa della Recanatese, FC Osimo e Chiesa Nuova. L'obiettivo è stato quello di sostenere l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma rappresentata dal dottore Riccardo Centurioni. Il triangolare è stato vinto dal Chiesa Nuova di Mister Mobili che ha avuto la meglio sulla Recanatese nell'ultima partita, decisa ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei 45 minuti regolamentari. Le altre due partite hanno visto la Recanatese vincere per 1-0 contro l'FC Osimo grazie ad una posizione di Ruan De Melo e di Chiesa Nuova a prevalere ai rigori sulla squadra osimana dopo che i 45 minuti si erano conclusi sullo 0-0. Con quest'ultima notizia di sport è davvero tutto per questa edizione del TG, grazie per l'ascolto e a tutti voi una buona serata. Grazie a tutti.